La giungla paura e il reparto ci teme Aquile Forever! Ciao a tutti, siamo il gruppo Asce Esploratori e Guidi d'Italia, il reparto La Ghianda di Palazzola Greide. My name is Kevin and I am the Aquile Squadron Leader. My name is Salve. Oggi siamo qui per festeggiare la giornata del pensiero e vogliamo rinnovare con voi la promessa. Con l'aiuto di Dio prometto sul mio onore di fare del mio meglio per compiere il mio dovere verso Dio e verso la patria, per aiutare il prossimo in ogni circostanza e osservare la legge e scauto. Grazie per averci guardato il video, ciao a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti